musica 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 ma onde ce ne stanno oh guardali pure di qua ciao oh mio dio riusciremo a sopravvivere ora parte in proiettile tutti i zombie oddio l'avvocato oddio oddio abbiamo cagato l'avvocato ho preso pure la macchina mi ha frizzato oddio zombie militari 8,4,6 seguimi docori acqua acquacciato lì dentro genius ma che cosa più veloce è no uguale mi sembra per il momento siamo al sicuro non ci hanno seguito però l'avvocato è in vena di sangue lo posso sparare? vai vai se lo vedi si oh non mi fa spare i proietti non ci spara ma ecco l'ho preso io ma è pieno di sopra se no ma è pieno di sopra se no arrivano 30 munizioni convenzionali per me per me no me ne so frega te oddio come ti sei permesso attento vai non muore non muore non muore l'avvocato no il meccanico il meccanico e ma che balle il poliziotto no andiamo a vedere sarà spawnata sia roba adesso si magari ci fosse un rotore qua da qualche parte oddio mio si corri corri dentro 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 ah la peccina ok non entrare nascondi nascondi se senti se senti oddio qua si finisce i colpi armola revolver qua ok me li so gradi io ok mortaci tui ok l'ho ammazzati tutti caricatore dmr che sto pieno basta caricatore dmr basta entro no non sparare non sono uno z no non sto sparare no il telemetro ai vai bravo ai vai epic pen e morfina e 2 penkiller e qua per terra qua oh mazzo e c'è un light verde ti munizioni m240 munizioni m9 silenziate oh via le fanno bene quelle m9 normale oh dmr no ci vuole la silenziale andiamo a vedere l'altra stazione va bene si entriamo entriamo presto presto chi ha sparato al serbatoio io no veramente sono un arancione qui c'è da qui beh perchè c'è sta puoi mi piace c'è solo uno zombie ok ok eccola qui ok ho tutto perfetto è sparato esponata roba qua dentro si ci sta un po' di rob da dentro dopo ah il capanno degli attrezzi ah no no io dicevo qua ah i ehm c'era un altro un altro caricatore g17 senti io ci avrò считano 10 caricatori g17 ahh ma ti servono a te giusto? io li vado tutti c'ho lm 9 ma quelli che no io non c'ho lm 9 che c'hai? Aspetta, perché i caricatori della G17 vanno bene per l'M9? Eh, certo Ammazza E non ce l'ho l'M9, c'ho la revolver Senti, qua dentro non c'è sta niente Qua dentro non c'è sta niente, uscimo Ma ci sono molte mondizie C'è un'altra cosa? Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente Non c'è niente, non c'è niente Ok, partimo Non stavo andando a quell'altro Sì, sì O prima vassavo a pari uffici Ecco, scendi 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 Ma frizzato Questo dentro Io mi faccio segui Aspetta, copro io Ti hai tre colpi perfetti Bravo Sei dentro il coso? Nella super market Mi sarei inchiuso Così Tu puoi controllare le stanze Mi sta frizzatutto Pura me Vediamo se c'è uno zenetto per te Allora Qua ci sta un Lee Enfield E un Niente zenetto per te qua dentro Qua Passo a vedere io Vengo in tuo soccorso Dove sei al secondo piano? Eh sì Oddio mio Piero Aiutami Però leva la farobba eh Dove la revo Eh mo Sto uccidendo gli zumbini Mamma mia Oh Zep Attento qua Fammi vedere qua che c'è sta Non ci intrappoliamo dentro le stanze Eh copri me Vai vai Non uscire Ah Posso uscire? Sì sì Entra dentro la casa Giallo Oddio Zephyo Aiuto T'aspetta un farmacia T'aspetta un farmacia E' esempio Eh c'ho tre colpi Una lezione Ok Arrivo in farmacia Oh 10 blood bag Come ne fai una eh Eccomi Va più alla macchina cosomai Che qua è pieno ai medicinali Ma tanti Zephyo Ci staranno Sì e no 20 Morfine 20 Così Sacche de sangue Madonna Oh Chi è 15 15 15 15 Mo' vediamo qui Zephyo Ci stanno Tre Eh no 25 cose de sangue 25 morfine 25 epic pen Oh 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 Qualcosa Non ho visto Non si può Fa Allora Seguitemi Bastardi Mi stanno a seguire Mi stanno a seguire Non so Penso di sì 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 Va bene Bene Sì Venguitemi Bastardi 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 A chi Arrivò Arrivò Quante Brodbag Ah Dieci Non facciamo Cinquanta Cavolo Stanno Entrato Puri Dietro Ok Prendo Tante Tante Bende Guarda Quando io lo stanno Pieno Ci abbiamo tutta la città Mi sa Eh Mi sa Ehm Ehm Ok Ok Ehm 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 madonna mia la roba che te sto mettere ma anche in medicina lì e pp ok ma è pieno la roba te la butta e non me la feceva più mettere eh si me la butta quanta roba c'hai messa vabbè ce l'ho messa quella che ci serve se vi è qua fuori ti metti a ridere c'è la strisciata d te farmaci per terra per la strada ma sto arrivando hai visto la striscia d'acqua per terra si 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 e non si fa l'attimo non prende una cosa da blood bag anche ci sta qua qua dentro si se no della stanno ah vabbè dai te la faccio oh cio eh ecco ok grazie quanto sangue c'hai tu 12.000 oh vabbè vogliamo salire macchina allora oh lasciala qua non andiamo vado a farmi una corsetta alla stazione dei voglieri andiamo dove si trovava scusa e zeffio eh devi andare sulla strada principale e poi andare verso sinistra ah la spero uscire all'ospedale doveva andare a destra deve andare a destra e poi a sinistra ecco lì ecco lì non c'è niente segno non ha consegna anche qua sopra pdv pd pdv e akm come in pieni siamo prendo solo le munizioni del pdv che vanno dovrebbero andare bene con la glock torniamo alla macchina oddio t'ho sfiorato zeffio grande mi dovevo accucciare grande zeffio pdv pdv oddio mi sono perso pdv no io sono uscita dalla porticina vanno all'ospedale aspetta vanno entra dentro all'ospedale no vabbè io vanno macchina va bene lo sta danneggiano no no non danneggia mia no no non danneggia mia ok pdv 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 pdv